La nostra corsa allo spazio degli anni Sessanta fu in risposta a un evento. Mio Dio. Se fai parola di quello che hai visto qui, ti accuso di tradimento. Pensavamo che aveste condiviso tutto ciò che sapete del nostro pianeta. Ci avete mentito. Avete commesso un grosso sbaglio. A distanza di anni ci chiederanno dove eravate quando hanno conquistato il pianeta. Ce la farei, te lo prometto. È finita. Mi dispiace, ma è finita. Optimus! Puoi perdere la tua fiducia in noi, ma mai in te stesso. Da ora sarà la tua guerra. Via!